buongiorno a tutti amici nuova pausa pranzo nuova pausa remix da sono quattro le cose che mi piacciono quattro signori quattro cose quattro allora la sua bellezza il suo stile e il suo portamento e la quarta cosa che non capisce mai quando lo prendo per il culo hai visto il mio appartamento l'ho appena finito di arredare ti piace posso essere sincero posso non ti offendi ho guardato per oltre 20 minuti quel quadro nell'ingresso è veramente orrendo quello è uno specchio vieni qua vieni qua facciamolo no dai tutti i giorni mi sembra troppo ma se questo mese è la prima volta che te lo chiedo io ti amo perché tu sei una ragazza semplice c'è una ragazza acqua e sapone sì sono la ragazza della porta accanto no quella porta accanto è buona proprio lascia perdere è bellissimo io ti amo e tu non puoi capire quanto tante volte il diavolo si è presentato a me sotto forma di giovane bello e muscoloso e mi ha tentato e tu hai resistito ma scherzo ciao ciao hai mangiato hai mangiato che fai mi copi che fai mi copi ti amo sì ho mangiato tu non mi ami più si vede perché sono vecchia è vero qualche capello grigio qualche ruga sul viso qualche chilo di troppo ma sappi che dentro di me c'è una giovane ragazza di vent'anni e quando te la sei mangiata a domani